Presentata a Roma la quindicesima edizione del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce dal 28 aprile al 3 maggio, vedrà la partecipazione di personaggi importanti, madrina sarà Claudia Cardinale, ci sarà anche Marco Bellocchio, ci sarà Carlo Verdone, Pamela Villoresi, il festival è diretto da Alberto Lamonica e Cristina Sodano e conferma la sua vocazione per la promozione del cinema europeo e di quello mediterraneo.